Ciao, mi chiamo Harper e io studio film e italiano all'Università del Texas. Le storie del cinema a Roma e Austin sono molto interessanti e molto lunghe. Roma è la capitale dell'industria cinematografica in Italia. Il regime fascista, con l'aiuto di Mussolini, ha costruito Cinecita a Roma negli anni 30. Oggi Cinecita è ancora la casa di produzioni più grande in tutta l'Europa. Ma Roma non è l'unica città con una storia del cinema. Austin, nel Texas, anche ha una traduzione ricca del film. Per esempio, South by Southwest, uno dei più grandi festival del film negli Stati Uniti, ha luogo qui, nel centro di Austin. Slacker è un film importante per Austin perché era il primo grande film a presentare Austin e anche a ricevere l'elogio dei critici. Il film è stato fatto nel 1989 ed è uscito nel 1991 al Sundance Film Festival. Il film è stato nominato per un premio al festival, ma non l'ha vinto. Slacker non ha una trama, invece ci sono molti aneddoti di molte persone. Sebbene la storia di Slacker non sia importante, è importante la scenografia del film. La telecamera viaggia per tutte le parti di Austin e dimostra la città senza il contesto. Il film presenta in molti aspetti di Austin. Quando si abita a Austin, questa interazione tra la natura e la città è normale alla maggior parte delle persone. Slacker presenta che la struttura informale della città crea un'unica della e nella città, dove è normale che gli sconosciuti parlino a te. La grande bellezza è un film che è uscito nel 2013. Il film parla di un uomo vecchio che si chiama Gep Gambardella. Gep è un mondano, quindi molto ricco ed è scrittore. Il film segue Gep e la vita nella città di Roma. La città è piena di vita con i giovani, la musica e l'arte. Ma Gep è vecchio e comincia a capire che la città eternia non è immortale. Il film abbraccia l'arte e l'architettura classica di Roma e anche l'arte moderna. Il regista Paolo Sorrentino ha detto che le giuste fissioni delle persone e dell'arte di Roma ma strano che Roma è un città di grande bellezza, ma anche di bruttezza e le possibilità mancate. Il film ha vinto l'Oscar per il migliore film straniero. L'Oscar l'ha rafforzato come un film italiano importante. Abbiamo parlato con Adria Frizzi, il capo del Cineforum all'Università del Texas. Il Cineforum è un'opportunità per gli studenti dell'Università e la comunità di Austin di vedere i film italiani, nuovi e vecchi. Penso che sia uno strumento importante per gli studenti che studiano italiano per fare pratica di lingua attraverso una forma d'arte che gli dà una possibilità di conoscere anche la cultura italiana a tutti i livelli, anche i livelli più semplici, come sono le case degli italiani, come sono le loro cucine, i loro bagni, eccetera. I film Slacker e La Grande Bellezza hanno le loro differenze e le loro somiglianze. Slacker, per esempio, è stato creato con un piccolo budget, con solo 1.023 dollari, però La Grande Bellezza è stato creato con un grande budget, con 9,2 milioni di euro. Questo può sembrare una differenza irrelevante, ma il budget del film spesso indica quello che è stato possibile includere nel film. Per esempio, il valore di produzione è evidente nella Grande Bellezza con i suoi spettacoli, immagini, la fotografia e l'energia. Al contrario, il budget di Slacker crea un'atmosfera di noia e immobilità. La Grande Bellezza vuole comunicare la futilità della vita e lo stato costante di cambiamento delle persone nel mondo, dell'ambiente, della cultura e della tecnologia. Il film fa questo con la sua decisione di filmare di fronte ai vecchi edifici a Roma. Mentre tutto e il resto cambia, questi edifici rimangono gli stesi. Al contrario, gli edifici nel film Slacker cambiano con i personaggi gradualmente. Gli edifici nel film sono differenti adesso da quelli che erano prima. Ma Slacker anche vuole comunicare lo stesso messaggio della Grande Bellezza, ma solo in un modo meno drammatico e più peccato. L'aurora regista ammortoriale Richard Linklater in qualche modo ha creato un film con la stessa bellezza e immortalità come un regista esperto Paolo Serentino. Non sorprendo che sia Slacker sia La Grande Bellezza siano nella collezione Craterion. Questi film dimostrano che i film sono come i reperti storici che preservano un momento specifico di una città specifica nel tempo. I film sono capsule del tempo.